Si è consegnato ai carabinieri di Giulianova il responsabile dell'investimento mortale avvenuto giovedì notte che ha causato la tragica morte di Giuseppe Montini, un ex vivaista di 60 anni molto noto nella comunità. L'investitore è un 38enne di Alba Adriati che ha identificato con le iniziali di DS appartenente alla comunità Rom. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale o missione di soccorso. Il 38enne si è presentato in caserma accompagnato dal suo legale, consapevole che gli investigatori avevano già raccolto prove schiaccianti contro di lui. Tra queste le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno catturato parte della fuga. Il borsello della vittima, trovato agganciato allo specchietto retrovisore del SUV e rinvenuto lungo la statale ha tortorito. E infine la Jaguar, utilizzata durante l'incidente, che era stata noleggiata a Pescara da un amico che si trovava a bordo con lui. Ora, spetta al pubblico ministero Silvia Scamurra a valutare se richiedere una misura cautelare nei confronti dell'investitore, considerata la gravità della dinamica dell'incidente e la totale indifferenza mostrata verso la vittima agonizzante e lasciata a terra senza alcun soccorso. Ieri intanto si sono svolti i funerali di Giuseppe Montini nella chiesa di San Flaviano, che ha visto la partecipazione di un gran numero di persone, amici e conoscenti, uniti nel dolore attorno alla mogliettina e alle figlie Caterina e Roberta. L'intera comunità ha reso omaggio a un uomo stimato e rispettato, tutti profondamente colpiti dalla tragica perdita.